Anche se non manca chi non ha mai smesso di apprezzare la carriera di M. Night Shyamalan, la maggior parte degli appassionati sono rimasti delusi, da gran parte delle opere seguite allo straordinario esordio del regista indoamericano Il Sesto Senso del 1999. E allora prepariamoci a festeggiare perché le voci fuori dal coro sono davvero pochissime, praticamente tutti sono d'accordo che con Split, un thriller cupo, violento e sorprendente, il nostro è tornato a grandissimi livelli. Centrando una regia asciutta ed efficace, con la complicità di un mutevole e spaventoso James McAvoy, Shyamalan firma un film che si riflette nelle molteplici personalità del suo protagonista Kevin per muoversi tra i generi e mettere in scena, senza mai cedere all'effettaccio, una rappresentazione complessa ed emozionante del dolore. Bentornato Manoj. 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 Bentornato Manoj.